Maestro, maestro, ti supplico di guardare mio figlio. Ti scongiuro di aiutarlo. E' il mio unico figlio. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciare questo spirito maligno. Non ci sono riusciti. Gente testarda e senza fede. Fino a quando dovrò restare tra voi e sopportarvi? Portami qui tua figlia. Sì. 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 Sì, 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 sì. Guarda, è cambiato anche il viso. È un miracolo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.